Ci sono molti dubbi sulle procedure, anche sulle autorizzazioni in possesso dell'azienda, che noi speriamo siano fugati anche per il futuro di quell'azienda, voglio dire. Bisogna però, davanti a una tragedia di questa portata, fare chiarezza fino in fondo. Fare chiarezza sulle autorizzazioni e sull'applicazione corretta delle prescrizioni contenute nella direttiva Seveso per la Sabino Esplodenti di Casalbordino e la richiesta alla base di tre esposti che il Forum dell'Acqua Abruzzo ha presentato alla Procura di Vasto che sta procedendo per disastro colposo e omicidio colposo plurimo a seguito dell'incidente dello scorso 21 di dicembre in cui hanno trovato la morte tre operai, Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino, Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri e Nicola Colameo, 46 anni di Guilmi. Sono 23 in Abruzzo gli stabilimenti ad alto rischio sotto direttiva Seveso. Storicamente in Abruzzo non è stata molto applicata. Noi abbiamo esperienza diretta con i laboratori di fisica nucleare e con l'impianto del Vastese, della Stogit, che non aveva i piani di emergenza per i cittadini in quel caso. E solo grazie al nostro intervento, fortunatamente in quel caso preventivo, si è messo riparo a questa situazione di irregolarità di altri impianti. Ora è accaduto purtroppo questo fatto tragico per quella situazione. Abbiamo fatto delle prime verifiche. Il piano di emergenza esterno per i cittadini non risulta pubblicato né sul sito della Prefettura né sul sito del Comune, dove ovviamente un cittadino dovrebbe trovare tutto questo materiale per documentarsi, per sapere cosa fare in caso di incidente. Il forum ha chiesto alla Procura di Vasto anche di verificare alcune incongruenze relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Le foto aeree scattate tra il 2000 e il 2017 mostrano modifiche all'interno del sito di smaltimento materiale esplosivo che, secondo l'Associazione Ambientalista, non sarebbero state assoggettate a via. L'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale. Però la legge dice che quando viene modificato, ed è stato modificato abbastanza recentemente, l'impianto doveva essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale nel suo complesso, non per un ulteriore ampliamento. Cioè per quello, anzi, quelle attività non potevano essere realizzate senza una previa valutazione di impatto ambientale. Come mai non è stata fatta? Perché la Regione dice che non è stato mai assoggettato a via quell'impianto. Tanto è vero che appunto dopo l'ampliamento, gli dà l'accordo per l'ampliamento e gli dice sì però entro 90 giorni devi fare la valutazione di impatto ambientale. Questo a novembre.